bene buongiorno a tutti eccoci qui connessi con me ci sono andrea pedrazzini e maurizio gili a questo webinar che abbiamo creato in collaborazione con chimiberg fate pure un saluto si buongiorno buongiorno a tutti anche da parte mia sono andrea pedrazzini lavoro in settore marketing per il marchio chimiberg esattamente con la funzione di field marketing per il nord italia e oggi vedremo appunto alcune importanti novità di chimiberg e anche altre importanti soluzioni per la difesa anti per uno sporica maurizio lascio fare un saluto anche a te sì buongiorno a tutti io sono praticamente pronto per partire ci sarà una mia introduzione generale su sulla malattia insomma un po qualcosa sulle acquisizioni più recenti e poi sentiremo la voce di chimiberg perfetto grazie mille ad entrambi prima di iniziare un paio di informazioni tecniche allora se state seguendo questo webinar dal computer potete interagire con me direttamente quindi quello che scrivete rimane a me sono io che decido in caso se pubblicarlo con tutti quanti nel senso che inizialmente non lo vedono tutti a meno che siano saluti introduttivi quindi potete scrivere in chat cliccate sulla freccettina arancione dello strumento vi si apre un pannello di controllo entrate nella sezione domande chat e scrivete lì dentro se siete da cellulare invece sopra sopra le slide o sopra le nostre webcam ci sarà un pulsante con con il punto di domanda cliccate lì dentro e scrivete in chat e sono io che leggo le vostre domande o le vostre i vostri saluti quindi vedo che ci sono già delle persone come david che hanno già partecipato a diversi webinar come gennaro ciao gennaro come paolo e antonio che hanno già partecipato dei webinar e quindi sono molto abituati e sanno benissimo come utilizzare la piattaforma e ci sono anche delle persone nuove che saluto quindi fate così per vedere se riuscite ad usare bene la chat e lo strumento per interagire scrivetemi in chat se è il primo webinar che seguite e visto che stiamo parlando di peronospora scrivetemi anche qual è la cultivar che che gestite che è più sensibile a questa malattia intanto roberto ti saluto a maurizio ciao valerio buongiorno a tutti c'è valter salvatore ok perfetto salvatore dalla sicilia allora andrea dice merlò corvina giulio nero davola arianna montepulciano si connette fausto è il primo webinar per graziano vermentino merlò croatina aglianico tintilia montepulciano verdicchio ok bene stanno arrivando diverse quindi garganega vermentino falanghina ok cannonau vermentino bene piedi rosso tanto ciao gennaro negramaro ok perfetto dai vedo che tutti state imparando ad usare la chat prima di lasciare la parola ai relatori facciamo così io adesso vi complico un attimo le cose quindi voglio condividere con voi in chat la possibilità di invitare a questo webinar qualche vostro collega o qualche vostro amico che magari si è perso la comunicazione visto che ultimamente ci sono tantissimi webinar vi lascio in chat il link per iscriversi quindi fate copia e incolla e lo mandate magari su whatsapp a una persona ricordatevi che su tutti i webinar c'è un numero massimo di persone che possono stare connesse quindi inviatelo magari soltanto una persona per invitarla a partecipare adesso quindi intanto fatemi sapere tutti se avete ricevuto questo questo link intanto dalla toscana san giovese vermentino cerignolo quindi tutti sono molto sensibili quindi ricevuto 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 ok perfetto mandatelo mi raccomando una sola persona non pubblicatelo su facebook per favore allora camilla te lo invio in privato ok perfetto bene le ultime due cose prima di iniziare ufficialmente per chi arriva fino in fondo fino in fondo alle due presentazioni sveleremo dei webinar che terremo nelle prossime settimane e inoltre sempre con chimiberg sono dei webinar formativi tenuti con chimiberg e inoltre per chi arriva fino in fondo alla anche alla sessione domande sveleremo un ulteriore bonus che invece questa volta mettiamo noi di vinidea è un webinar che terremo venerdì sera alle 18 e è un webinar che organizziamo in collaborazione con IAB Friuli Venezia Giulia e che non abbiamo ancora divulgato quindi proprio un è un'esclusiva che riceverete soltanto se rimanete connessi fino alla fine altre cose prossimamente troverete le registrazioni di questo webinar con un minimo di editing quindi taglierò la parte mia introduttiva sicuramente sulla nostra rivista infowine.com e riceverete tendenzialmente domani per mail l'attestato di partecipazione questo chiaramente se restate fino alla fine e anche qui se restate fino alla fine riceverete poi la possibilità di rivedere alcuni passaggi della presentazione di oggi quindi leggo un attimo un altro paio di c'è Davide che ci dice da Margot Cabernet Sauvignon e Merlot quindi immagino che tu sia a Bordeaux Davide ok vedo tantissimi Merlot ok allora facciamo così io lascio il la parola a voi adesso mi tolgo microfono e audio se voi avete bisogno di qualsiasi cosa mi scrivete io rispondo adesso provo a rispondere invece ai saluti di tutti che sono arrivati in chat che sono davvero tantissimi e lascio la parola direttamente a te Maurizio quindi stiamo già vedendo le tue slide io Andrea tolgo la tua webcam e il tuo microfono ok e lascio parlare te Maurizio mi taccio e tolgo la webcam bene di nuovo rinnovo il mio buongiorno a tutti nuove strategie per il contenimento della peronospra in realtà parleremo anche di vecchie strategie perché molte di queste vecchie sono tuttora valide ecco e quindi non sono da dimenticare no ho fatto ho fatto qualcosa di sbagliato non vedo più la mia presentazione aiuto adesso arrivo facciamo così vediamo un attimo ti rimando il ruolo di relatore quindi adesso ok a posto allora qui un po di cronologia prima segnalazione in Europa nel 1878 è arrivata dall'America con le barbatelle che si cominciavano a importare per difendersi dalla filossera quindi per difendersi da una malattia ne abbiamo importata un'altra in America era conosciuta già ma non faceva gravi danni come mai non faceva gravi danni? ma intanto perché nella costa est degli Stati Uniti si coltivavano prevalentemente viti ibride e quindi manifestavano poco in California c'era già la viticoltura ma probabilmente in California d'estate come sapete piove pochissimo per cui non c'erano grandissimi problemi in Europa invece il problema è ovviamente esploso si è cominciato a trattare con latte di calce nel 1881 tra l'altro ci sono dei lavori recenti anche che confermano che la calce ha comunque una certa efficacia contro la peronospora quindi non è che fosse così pellegrina nell'83 nasce la poltiglia bordolese inventore a miliardè nel 1916 Voglino a Torino comincia a parlare di istituire dei servizi pubblici intercomunali o comunque di segnalazione nel 27 nasce il primo consorzio di antiperono sporico ad Acqui nasce un po' la lotta guidata anche se a quel tempo la lotta guidata era una cosa un po' prematura come come definizione più che altro si c'erano questi osservatori che avevano imparato a conoscere la malattia andavano a cercare le macchie e poi io ho avuto un'esperienza diretta perché ho cominciato a lavorare tanti anni fa al fine degli anni 80 89 90 c'era ancora questo servizio il consorzio antiperono sporico dell'ovadese e c'erano questi agricoltori ormai anziani che avevano svolto questo ruolo di segnalatori già dalla loro giovinezza ed erano agricoltori veramente molto preparati e pensate che quando non c'erano le stazioni elettroniche queste persone tre volte al giorno andavano alla capannina a prendersi le temperature l'umidità la pioggia e le segnavano a mano su un registro un lavoro enorme che però ha diffuso una grande conoscenza di questa malattia che poi nel tempo si è un po persa devo dire adesso negli ultimi anni anche gli agricoltori sono più sono di me sono tornati ad essere più consapevoli c'è stato un periodo in cui l'avvento di prodotti che sembravano quasi miracolosi no tratto ogni 15 giorni non importa se piove o non piove e quindi la conoscere la malattia diventava meno importante poi si è vista che questo modo di lavorare non funzionava così bene allora si si ritorna a conoscere un po meglio la biologia del fungo negli anni 40 il lavoro di baldacci poi dico i danni c'è di altri anche in francia finiscono alcuni parametri in modo più preciso quindi la tabella di incubazione la vediamo dopo la cosiddetta regola dei 3 10 e possiamo dire che è il fungo più studiato in fitopatologia la peronospora perché c'è veramente una grande mole di studi è molto antica il che non vuol dire che sappiamo tutto e che e che comunque riusciamo sempre comunque a prevederla ea ea combatterla efficacemente io mi ricordo sempre uno di questi segnalatori anziani che nel suo link nel suo modo di parlare ormai a ovada siamo ai confini tra piemonte ligura quindi con un'inflessione già un po di genovese di citava sempre questa frase scusate per la licenza poetica diceva che la 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 peronospora è una bagascia che tutti gli anni si mette un vestito nuovo questa cosa mi è rimasta impressa perché effettivamente è così cioè qualche volta ancora riesce a sorprenderci negli anni 80 le conoscenze biologiche si approfondiscono e si affianca agli strumenti dell'informatica quindi nascono i più moderni modelli biologici ce ne sono diversi e si si diffondono le stazioni meteorologiche elettroniche che consentono lettura ed elaborazione dei dati da remoto che sono indispensabili per applicare questi modelli adesso facciamo una breve carrellata di immagini di cui sono debitore al collega rogero mazzilli stazione sperimentale per la viticoltura sostenibile di panzano che mi ha omaggiato di tante bellissime foto ecco importante non è così banale a volta riconoscere la peronospora perché presso soprattutto sui polloni all'inizio della stagione che è dove dobbiamo cercarle effettivamente e lì dobbiamo cercarci anche però le prime asco sporche di oidio quindi è proprio su queste foglie dei polloni che dobbiamo verificare le primarie però come vedete le macchie dell'oidio sono diverse sono sono più sfumate sono ai contorni meno netti anche la differenza di colore è meno evidente e anche sulla pagina inferiore si presentano si presentano diversamente ecco poi è molto è molto appariscente è molto visibile la peronospora in una fase più avanzata come vediamo all'inizio ci vuole un po d'occhio perché ovviamente questa differenza di colore sfumata bisogna andarsela guardare bene guardare la pagina inferiore se ci sono dei dubbi e a volte ci sono si fa la prova di incubazione quindi si prende la foglia si mette in un sacchetto di plastica si mette un pezzo di carta assorbente bagnata la si mette al buio e in una notte della macchia d'olio spola quindi se peronospora viene fuori vediamo le prime bolle sui succhioni ecco tenete presente che l'infezione primaria la vediamo dopo parte da terra e quindi partendo da terra con gli schizzi di pioggia va a finire sulle foglie più basse quindi sui sui polloni quindi già la spollonatura sotto questo punto di vista può essere già una una prima mezzo indiretto e diciamo per contenere la virulenza delle primarie anche se non è da farci troppo affidamento ma comunque qualcosa fa anche quello e alla fine della stagione la peronospora si presenta così la peronospora mosaico praticamente la le pareti cellulari sono ormai più spesse riescono a confinare la diffusione del fungo questa è un esempio diciamo anche dei meccanismi di resistenza che la che la vita mette in atto come vedremo poi ci sono dei geni di resistenza solo che non sono abbastanza forti soprattutto non sono abbastanza veloci cioè si svegliano in ritardo e quindi non sono sufficienti a contenere la malattia nella vita europea mentre invece questo accade in altre in altre specie di vite dello stesso genere queste sulla ricrescita estiva la la peronospora mosaico la vediamo molto sui vigneti poco vigorosi soprattutto no su vigneti addirittura su vigneti abbandonati si vede molto facilmente questo perché dove c'è meno vigore vegetativo le pareti cellulari sono più spesse anche i meccanismi di difesa sono più sono più attivi questo da un lato ci fa anche dire che la sensibilità la peronospora di un vigneto è legata a diversi fattori certamente la varietà però anche il grado di vigore per esempio la nutrizione azotata c'è un vigneto molto vigoroso molto nutrito con azoto inevitabilmente anche più sensibile alla peronospora perché le pareti cellulari sono meno sono meno spesse quindi insomma lo si dice per la per la peronospora lo si dice anche per la botrite per lo idio cioè diciamo che una vita è molto vigorosa in ogni caso è più soggetto alla malattia questo è un dato di fatto qui vediamo l'essatura del grappolo in prefioritura qualche volta ci sono attacchi anche molto precoci sui grappolini addirittura abbiamo visto in certe annate soprattutto sulla varietà nebbiolo degli attacchi che abbastanza devastanti e quasi con assenza di macchie su foglie e magari il vento il 30 per cento di grappoli di grappoli colpiti usate un attimo il bello della diretta andiamo avanti qui vabbè qui la classica peronospora sul grappolo scusate ma allora l'acino è direttamente suscettibile alla peronospora in una determinata fase cioè come vedremo la sono gli stomi la via di ingresso della peronospora nella pianta e anche la via di fuoriuscita delle spore dei coni dei sì delle degli zosporangi e quindi bisogna che gli stomi siano aperti siano attivi quindi nella nell'acino gli stomi sono aperti in un periodo abbastanza breve lo vedremo lo vedremo più avanti ma diciamo che dalla mignolatura in avanti non viene più attaccato direttamente l'acino andiamo avanti questa la peronospora larvata sempre con licenza poetica direi che la peronospora più bastarda questa perché provoca sempre un danno qualitativo importante quindi non solo quantitativo ma anche qualitativo perché poi non si possono separare facilmente questi acini colpiti alla vendemmia in alcune annate nel 2018 ad esempio abbiamo avuto peronospora larvata molto pesante e questa ha una finestra di di entrata che abbastanza corta secondo gol danich va da 7 a 13 mm di diametro dell'acino in sostanza cosa succede quando si chiudono gli stomi dell'acino rimangono però ancora aperti gli stomi del pedicello la peronospora entra dal pedicello e quindi va a chiudere la i vasi e e c'è questa questo appassimento quindi diciamo il periodo in cui si può avere una un'infezione su larvata è un periodo abbastanza breve però se la becchiamo il danno è veramente importante ecco qui avanti sono cose che già sapete ecco questa questa ovviamente queste queste immagini del ciclo della peronospora l'avrete vista tutti varie volte quindi non non mi soffermo tanto però importante sempre ricordare la differenza tra infezione primaria infezione secondaria quindi la peronospora sverna come ospora quindi un organo di resistenza a parete spessa e ha bisogno di essere ben bagnato ben bene e a lungo per poter per poter produrre i materiali di moltiplicazione cioè le zospore e questo da origine all'infezione primaria la vecchia regola dei 3 10 poi ne parliamo e la metteremo anche in discussione dice che ci vogliono 10 centimetri di lunghezza dei germogli 10 millimetri di pioggia 10 gradi di temperatura minima ovviamente una regola empirica che ha delle dei limiti però diciamo che tutto sommato da delle indicazioni abbastanza giuste quindi la primaria ha bisogno di pioggia e anche di una pioggia abbastanza abbondante le sole rugiade non danno origine a primaria così come le piogge molto limitate di pochi millimetri e finché non si è finché non c'è stata la primaria non ci possono essere le secondarie quindi le rugiade diventano importanti quando la primaria è già avvenuta in assenza di primaria le rugiade non sono non sono infettanti per quanto riguarda invece le infezioni secondarie questo è il ciclo quindi dagli sporangioferi che sono questi qui li vediamo sugli acini più spesso li vediamo sulla parte pagina inferiore delle foglie si generano dagli sporandi c'è il rilascio delle zospore la zospora germina germina sia si appiccica a uno stoma in sostanza e poi va a infettare lo stoma emettendo del micelio che va a svilupparsi all'interno del mesofillo quando il micelio si sta sviluppando all'interno del mesofillo non è più raggiungibile dai prodotti di copertura quindi in questa fase praticamente non riusciamo a colpirla la malattia dobbiamo colpirla prima oppure dobbiamo colpirla dopo quando gli sporangi si gli zosporangi fuoriescono o prima che fuoriescano dalla pagina inferiore della foglia o dagli acini a meno che usare un prodotto che abbia un'efficacia curativa retroattiva di questo ne parliamo tra poco questa è la famosa tabella di baldacci che ci dice quanto avanza al periodo di incubazione della peronospora in base all'umidità e alla temperatura questo è abbastanza importante perché se noi per esempio abbiamo subito un'infezione che non era protetta o anche se era protetta però magari è stata una pioggia molto abbondante quindi comunque c'è il rischio che sia si sia generata una nuova infezione allora in questo la tecnica classica tradizionale quella di andare a fare il trattamento prima della fine del periodo di incubazione quindi voglio dire se per esempio le temperature sono basse e l'incubazione dura quindi 8 9 giorni in base a questa tabella è sbagliato andare a fare un trattamento col verde rame per esempio con un prodotto di copertura subito dopo la pioggia perché in realtà in questo modo noi non riusciamo né a coprire l'infezione precedente perché è già stata e né a coprire quella successiva perché quando saranno emessi i rami codiacosi gli zosporangi praticamente il trattamento sarà già alla fine della sua efficacia e quindi se quando si tratta dopo la pioggia bisogna anche fare attenzione a questi aspetti qui naturalmente bisogna anche considerare però che nel frattempo ci possono essere altre piogge e allora in quel caso vengono in aiuto le previsioni del tempo e allora non aspetterò l'ottanta per cento del periodo di incubazione perché nel frattempo si sarà stata potrà essersi verificata un'altra infezione e io potrà potrò invece prevene prevenirla trattando prima della pioggia ma di questo ne parlo meglio dopo allora vediamo come agiscono gli antiperonosporici perché non tutti agiscono allo stesso modo quindi allora c'è un'azione preventiva tempestiva che è da sempre rimane l'attività più efficace di contrasto al fungo praticamente tutti gli antiperonosporici sono in grado di avere questa efficacia preventiva mentre i prodotti di cosiddetti di copertura hanno soltanto questa praticamente consiste nell'intercettare intossicare le zosfore prima che diano origine a una nuova infezione cioè le zosfore hanno un fragello quindi si muovono nell'acqua nuotano se non c'è l'acqua non riescono a muoversi quindi rimangono sulla foglia e dopo un po degenerano ma se c'è acqua che può essere anche di rugiada una rugiada abbondante nuotano e si portano sulla sullo stoma allora il prodotto va ad intercettare intessicarle esattamente in questa fase qui quando loro stanno nuotando sulla superficie della foglia e questo è il sistema più efficace alla fine sicuramente i prodotti di contatto sono di lavabili quindi pioggia di oltre 20 25 mm li dilavano almeno in parte pioggia di 50 60 mm li dilavano del tutto i prodotti ci sono alcuni prodotti di copertura più moderni come cazzo famiglia della zoxamide che hanno una capacità di legarsi alle cere cuticolari e quindi resistono meglio al dilavamento e poi si può anche aggiungere degli adesivanti per migliorare la tenuta anche i prodotti più tradizionali azione curativa sono i prodotti che sono in grado di bloccare il micelia mentre si sviluppa nel mesofillo quindi è infezione già avvenuta e quindi devono poter entrare all'interno della pianta quindi citotropici oppure sistemici l'azione curativa efficace soprattutto nella prime fasi post infettive primi due tre giorni e quindi sono questi sono prodotti non dilavabili oppure solo parzialmente dilavabili basta che abbiano alcune ore di tempo per poter entrare dentro la pianta la differenza tra citotropici e sistemici è che i citotropici migrano diciamo al si riescono a migrare attraverso le pareti cellulari ma non entrano nella circolazione non entrano nei vasi mentre i sistemici entrano nei vasi e quindi circolano insieme alla linfa e quindi possono parzialmente anche coprire la vegetazione che nasce dopo il trattamento ecco però non dobbiamo pensare che questi prodotti siano un rimedio diciamo la pallottola d'argento cioè non è che con questi prodotti si risolvono tutti i problemi basta dargli una volta ogni 15 giorni o di più una questa cosa che è stata smentita dai fatti in realtà il periodo effettivo di protezione diciamo che nel caso di pressione molto elevata del fungo non dovremmo considerarlo superiore a sette otto giorni diciamo che il ciclo più lungo ha senso perché se se la se all'ottavo giorno un'infezione io tratto al decimo diciamo che il settimo giorno o l'ho coperto col trattamento precedente e il decimo lo coppa col trattamento successivo grazie all'azione retroattiva curativa quindi da questo nascono i 10 11 12 giorni ma in realtà la copertura effettiva è più e minore poi ovviamente dipende anche da quanto si sviluppa la pianta quindi dalle temperature dalla velocità di crescita cioè ci sono tanti parametri che incidono però in ogni caso bisogna essere prudenti l'azione antisporulante è quella che si fa che avviene sulla macchia quindi la macchia già presente possibilmente prima che gli escano gli zosporandi o che le zospore siano mature si fa questo si fa un trattamento antisporulante il rame stesso a una certa attività anti antisporulante soprattutto se in formulazione acida che però che però è un po tossica per la pianta altri prodotti hanno azione antisporulante di metomorf chazza famiglia eccetera l'antisporulante in qualche modo è l'ultima spiaggia è chiaro però che in annate dove c'è forte pressione continuano uscire le macchie i prodotti li uso anche in funzione antisporulante però non è ovviamente il metodo migliore è il metodo primario e con certi prodotti si rischia anche di creare resistenza ultimo capitolo l'azione bio stimolante l'induzione di resistenza il concetto è quello di indurre la pianta ad attivare i suoi meccanismi di resistenza e come ho già detto sono lenti da diversi anni si usano i fosfonati e il fosetile alluminio normalmente vengono abbinati a un partner di copertura negli ultimi anni ci sono induttori di origini naturali che servono molto anche all'agricoltura biologica soprattutto per le limitazioni che oggi ci sono sull'uso del rame e anche perché insomma chi fa biologico deve anche cercare e anche chi non fa biologico deve deve sempre cercare di rispettare al massimo l'ambiente il rame non è proprio una medicina per l'ambiente questo ormai lo sappiamo induttori di resistenza ecco ci sono diversi meccanismi di resistenza la produzione di fito alessine in particolare gli stil beni nella vite la produzione di enzimi litici quindi glucanasi e chitinasi e metabolismo ossidativo e morte cellulare programmata è un po quello che succede soprattutto con la vediamo molto bene nella peronospora mosaico questo meccanismo quindi c'è un blocco e la parte colpita necrotizza quindi la gli induttori di resistenza in pratica cercano di svegliare questi questi geni che diversamente funzionano come un ponte elevatoio che funziona male nel senso che si alza quando l'angressore già entrato quindi bisogna cercare di far alzare il ponte elevatoio prima allora vediamo ora quali sono le possibilità di intervento infezione avvenuta prima della fine del periodo di incubazione ne abbiamo parlato prima al fine di prevenire una secondaria questa si chiama anche lotta tempestiva potremmo definirla come la vecchia tecnica di lotta guidata quando le previsioni del tempo erano inattendibili quindi praticamente si aspettava la pioggia per trattare e se non se continuava a non piovere però diciamo che quando si entrava nella fase di prefioritura si faceva comunque un trattamento che si chiamava cautelativo a volte lo si fa ancora perché se ma non sappiamo se piove non piove nel dubbio meglio cautelarsi è una tecnica che si riserva a situazioni di basso rischio perché in realtà non previene l'infezione allora prima di una pioggia infettante basandosi sulle previsioni del tempo questa è attualmente la tecnica più moderna diciamo così non so se l'ha più scritto la più diffusa ma forse direi che la più moderna almeno sulla prevenzione delle primarie e in tutti i casi in cui si prevedono eventi potenzialmente infettanti il limite che le previsioni possono sbagliare quindi questo vuol dire che posso fare un trattamento inutile perché le previsioni prevedono pioggia e poi non piove oppure al contrario posso fare posso una pioggia non prevista e può creare un'infezione quindi non esiste un sistema che non abbia limiti però questo al momento è quello che usiamo di più alla comparsa delle macchie prima della sporulazione quindi aspettare di vedere le macchie l'efficacia anti sporulante come abbiamo visto non è mai completa e poi se nuovo piove nuovamente al momento di fare il trattamento si rischia il disagio diciamo che è una tecnica che ha senso solo nel caso di un'infezione che c'è sfuggita c'è qualche di sorpresa oppure in annata in cui la pressione continua quindi la ma vegetazione va mantenuta costantemente coperta e allora in questo caso è bene sorvegliare bene quanto compaiono le nuove macchie se compaiono e quando è per intervenire subito questo richiede un monitoraggio in campo importante medicoloso curativamente dopo la pioggia utilizzando un prodotto citotropico sistemico ad efficacia retroattiva in grado di colpire il micelio all'interno della foglia come abbiamo visto quindi non alla fine ma all'inizio del periodo di incubazione e quindi cercando di curare la malattia la prima infezione non la seconda l'efficacia però diminuisce mano a mano che l'infezione progredisce il micelio si sviluppa dentro la foglia quindi questo comporta che se la pioggia è molto abbondante è difficile usare questo sistema perché normalmente non si riesce a entrare in campo prima di 45 giorni quindi se abbiamo 80 90 poi dipende dai terreni ovviamente i terreni sabbiosi può essere più facile in terreni argillosi è più complicato infine dico a turni fissi a calendario ignorando meteo modelli questo è un metodo che noi ovviamente io ovviamente non consiglio è un metodo antiquato che rischia di essere nel contempo inefficace dispendioso e anti ecologico inefficace perché magari tratto quando non è il caso e non tratto quando invece è il caso e soprattutto chi usava i prodotti a 15 giorni fissi qualche volta si è preso delle bastonate però è chiaro che in andate di pressione forte continua un certo periodo di turni fissi avvicinati abbastanza inevitabile i metodi e turni fissi si usano nella sperimentazione quando si sperimentano prodotti diversi diversi per confrontarli si fanno i turni fissi perché non c'è altro modo per ridurre il numero delle variabili però direi che a parte questo caso non è un sistema consigliabile oppure preventivamente utilizzando induttori di resistenza il che ha senso soprattutto a inizio stagione ma ovviamente non è un sistema è un sistema integrativo cioè non è un sistema che da solo riesca a garantirci la difesa a meno che sia una stagione molto molto favorevole una pressione della malattia veramente molto bassa gli induttori l'ho detto non si possono usare come se fossero un antiparassitario perché non lo sono quindi unicamente in funzione preventiva trattamenti ripetuti almeno due tre volte a distanza di sette dieci giorni e prima che la malattia si manifesti per svegliare questi geni di resistenza la pianta deve essere in buona salute in buono stato di equilibrio per poter sfruttare i benefici degli induttori di resistenza vabbè qui vado velocemente abbiamo i fosfiti e fosetilalle abbiamo già parlato quelli usabili in biologico sono questi laminarine altri estratti vegetali microrganismi antagonisti un tema un po nuovo in grande sviluppo molto interessante gli estratti di lievito chitosano ed equiseto che però sulla peronospora sembrano meno efficaci su questi prodotti ci sono esperienze non c'è non possiamo dire di avere ancora una bibliografia molto articolata e abbondante e su su diverse annate ma diciamo che dei risultati comunque ci sono non è che che siano inefficaci la zeolite farine di roccia sembra avere un certo effetto diciamo integrativo soprattutto per chi usa il rame consente di ridurre un po il dosaggio di rame senza limitarne l'efficacia no anche questo però non è un anti per uno sporco quindi non va usato come tale 1 2 3 chili etero a integrazione di un partner regole d'oro seguire attentamente le previsioni del tempo possibilmente localizzate monitorare la presenza di macchie il loro stato quindi van benissimo i modelli va benissimo le stazioni meteo i computer però anche l'occhio umano non va dimenticato è la la presenza in campo utilizzare i dati le stazioni meteo i modelli biologici previsionali o attenersi alle indicazioni dei servizi e dei consulenti che li utilizzano considerare le differenze tra vigneto vigneto non è strano fare un trattamento su un vigneto e non su un altro anche nella stessa azienda e nello stesso comune è una cosa che si fa perché le suscettibilità sono diverse le zone più fresche e umide sono più colpite però attenzione perché spesso le primarie invece arrivano prima in collina e nelle zone più calde perché la abbiamo visto che c'è questa limitazione termica dello sviluppo della zospora e quindi qualche volta i versanti che sono meno soggetti alla peronospora d'estate lo sono di più alla all'inizio della stagione e qualche volta si beccano anche delle batoste forti con danni su grappoli forti perché il grappolo nel la primaria sul grappolino distrugge completamente il grappolo quindi attenzione trattare nei momenti giusti questa è un'ovvietà distribuire correttamente la miscela e con i giusti dosaggi ecco anche qui sui dosaggi d'etichetta ci sarebbe da discutere perché quando tratto una pianta con dieci foglie o ne a mille non può esserci lo stesso dosaggio secondo me poi a maggior ragione oggi che si usano strumenti come gli atomizzatori a recupero ma questa è una questione che a livello normativa non è ancora stata risolta e quindi la diamo per irrisolta distribuire correttamente la miscela sembra una cosa ovvia ma tanto ovvia non lo è lo vediamo dopo allora vale ancora la regola dei 3 10 trattare prima dopo la pioggia questo ne abbiamo già parlato quindi non c'è ritorno elementi da considerare la maturazione delle ospore e su questo sono molto utili i modelli epidemiologici e modelli previsionali l'intensità della pioggia le previsioni del tempo nei giorni successivi e l'ambiente in cui si opera e la pressione della malattia e la modalità di gestione del suolo nel senso che su questa cosa della gestione del suolo si è visto che il l'inerbimento anche con erba anzi possibilmente con erba alta al momento delle piogge infettanti riducono l'inoculo che va a schizzarsi sulle foglie della vite perché viene intercettato dall'erba questo però vale per la primaria perché poi una volta che le prime macchie ci sono l'erba alta non fa che aumentare l'umidità e l'intensità e la durata della rugiada quindi se all'inizio può svolgere un ruolo positivo dopo svolge un ruolo negativo ecco per le infezioni secondarie disponibilità di sporangi di ospore con capacità infettive quindi le macchie sporulanti sennò la secondaria non avviene la durata della bagnatura temperatura minima superiore a 11 12 c'è anche questa formula di blazer che uguale superiore a 50 al prodotto della temperatura per le ore di bagnatura quindi questa formula superiore a 60 può dare origine alla secondaria poi vediamo uno schema in cui si vede bene come incide con questi due dati la presenza di macchie d'olio ok questo la pressione della malattia varia a condizioni più o meno favorevoli quindi una secondaria può essere può essere limitato oppure può essere abbondante quindi non tutte le secondarie sono uguali ecco qui è lavoro dei colleghi di san michele all'adige si vede molto bene no la famosa formula di blazer qui è qui praticamente abbiamo va bene poniamo che la temperatura sia di dieci gradi quindi con cinque ore di bagnatura comincia la sporulazione poi man mano che con dieci ore di bagnatura si stella il fungo cresce alla grande e quindi la durata vedete come incide la durata delle ore di bagnatura quindi anche questo è un dato che tramite le stazioni meteo possiamo controllare abbastanza bene vabbè questo è un esempio di stazione qui ci sono alcuni pannelli di modelli di epidemiologici questo è quello di orta vita net come si presenta al cruscotto quindi come vedete la distinzione tra primaria e secondaria e la protezione e questa è la schema del delle primarie va bene forse non si capisce tanto ma comunque questa in questa prima parte si vede qual è il grado di sviluppo delle ospore e qui mi segnala una potenziale infezione primaria e qui il confronto tra diverse annate su questo vado veloce perché bisognerebbe perderci molto tempo ma ecco questo è uno schema di dss cioè supporto alle decisioni supporta le decisioni vuol dire che alla fine c'è sempre l'uomo che decide se il caso di trattare non lo decide il computer è meglio non farlo decidere al computer insomma poi a volte lo si fa perché manca il tempo non si va non si ha il tempo di andare a vedere in vignette tante altre cose allora si si lascia decidere al computer ma di solito è meglio fare anche un ispezione e un ragionamento intorno alla all'opportunità di fare o no il il trattamento vedete un classico albero delle decisioni in cui si cerca di tenere conto dei vari fattori e quindi per esempio la grado di copertura del trattamento precedente la la suscettibilità del vitigno quindi il rischio di infezione alto basso eccetera allora in realtà vitigni resistenti alla peronospora non ce ne sono nella vita europea ci sono vitigni un po più resistenti come i terbiani il cavernet sauvignon altri più sensibili però diciamo che sono tutti più o meno sensibili ecco qui vediamo sempre uno schema di orta questa banda azzurra indica la durata di protezione di un trattamento quindi qui vediamo per esempio che qui c'è un'infezione che però è protetta perché si svolge all'interno dell'area di protezione mentre qui è scoperta perché non c'è non c'è il trattamento questo è un altro modello quello di net sense funziona comunque in modo simile qui è l'inizio dell'infezione qui è la fine dell'infezione e la sporulazione quindi la secondaria e in effetti qui è segnata anche come secondaria questo è ancora un altro modello quello di pesle ecco in questo questa slide la trovo molto interessante io sempre dei colleghi di san michele all'adige vedete questa zona viticola in cui sono stati fatti rilievi in tre punti diversi quindi tra la distanza abbastanza minima però le differenze sono grandi vedete l'intensità della sporulazione in questi tre punti questo quadrato verde e qui località seghe che è quindi a quello evidentemente dove c'è stato meno meno problemi e gli altri due questo è una zona di fondo valle quindi con rugiade persistenti evidentemente e la sporulazione è massima questa è una zona molini è una zona più più alta quindi in teoria potrebbe essere più asciutta però vediamo che c'ha probabilmente un bosco vicino che porta che porta umidità che porta rugiada e quindi abbiamo una sporulazione abbondante quasi come nella zona di fondo valle quindi questo cosa vuol dire quello che dicevo prima non necessariamente nella stessa azienda si deve trattare tutti i vigneti allo stesso modo ancora una cosa sulla distribuzione i flussi d'aria nelle macchine diciamo tradizionali sono tendenzialmente asimmetriche questa è comunque una cosa che ognuno può verificare con la sua macchina attraverso i diciamo i normali sistemi di taratura e verifica funzionale degli atomizzatori questo è l'uso delle cartine idrosensibili che ci consente di capire quanto funziona bene un atomizzatore perché le modalità di distribuzione sono fondamentali tante volte si attribuiscono in successi nella lotta al prodotto al tecnico che ha detto di trattare nel momento sbagliato ma quasi sempre molto spesso perlomeno un insuccesso è dovuto al fatto che il prodotto non è stato distribuito bene non è stato distribuito in modo uniforme di norma i primi prodotti si fanno a filari alterni ma in piena vegetazione è bene invece trattare tutti i filari poi vabbè dipende da tante cose da come è fatto il vigneto e dalla dal vigoria dalla dalla densità fogliare ma diciamo che in linea di massima i trattamenti vanno fatti su tutti i filari soprattutto c'è una pressione elevata ecco qui in questa prova vedete la quanto è disforme la distribuzione sui due lati quindi questa è la direzione di avanzamento del trattore qui a sinistra e qui a destra come vedete butta molto di più a sinistra e butta molto meno a destra qui sono macchine pneumatiche ma il discorso non cambia in questo caso quindi qui addirittura un eccesso evidente no su queste quindi qui ovviamente collatura di prodotto che non viene che è sprecato e è una distribuzione non uniforme ecco se le cartine idrosensibili costano parecchio ma sì io ho usato anche del dei normalissimi post it da ufficio che si attaccano anche molto facilmente alle foglie per fare una verifica di come funzionano gli atomizzatori usando un colorante alimentare che si si trova su internet a un prezzo abbastanza contenuto io avevo pagato 9 euro e l'ho usato su 100 litri di acqua e usando dei normalissimi post it quindi senza però vedete che la funzionano abbastanza bene ecco questo è un effetto di un trattamento a filari alterni sembra il campo di calcio dopo che è passata il tosaerba in realtà la parte verde più chiara sono tutte femminelle seccate per la per la peronospora ma questo poi è un impianto a tendone quindi a maggior ragione è ancora più difficile raggiungere il secondo filare infine sapete che usi sono gli ugelli antideriva questo è migliora sicuramente la così diminuisce la dispersione quindi la più prodotto va sul bersaglio e soprattutto meno prodotto viene disperso nell'ambiente questo è molto importante soprattutto voi sapete certamente ci sono sempre più polemiche sulla sulla deriva dei prodotti antiparassitari tutti i sistemi antideriva aiutano anche a migliorare la convivenza tra l'agricoltura e gli altri settori e la e i civili le macchine recupero vabbè hanno alcuni limiti ma direi che per la peronospora vanno benissimo non hanno limitazioni di sorta quindi possono averne per altri tipi di trattamento tipo per esempio sullo scafoideo perché comunque non bagnano bene la parte bassa ma diciamo che sulla peronospora sono sono perfetti e consentono veramente risparmi che nei primi trattamenti arrivano anche al 70 per cento di risparmio del prodotto anche se in teoria bisognerebbe rispettare le dosi di etichetta e quindi saremmo fuori legge questo però è un problema che al momento non siamo ancora riusciti a risolvere la mia ultima slide questo qui trattamento con droni al momento è una cosa futuribile però direi che per il futuro soprattutto per vigneti di montagna di difficile accesso di collina molto ripida oppure dopo piogge molto abbondanti che non consentono l'ingresso in campo il drone al contrario dell'elicottero non fa deriva tratta a volumi molto molto bassi forse anche troppo bassi ma diciamo che a inizio stagione quando c'è poca vegetazione possono anche essere sufficienti un limite è quello dell'autonomia ci sono dei prototipi adesso che lavorano con dei motori a benzina e che quindi consentono di avere delle autonomie decisamente più lunghe questa è una cosa futuribile che però parlando di prospettive credo che sia giusto anche parlarne ci sono già dei buoni risultati insomma ecco io avrei concluso qui grazie grazie mille maurizio grazie mille intanto stanno già arrivando molti ringraziamenti commenti positivi da dal pubblico andrea intanto io ti attivo l'audio e se sei pronto ti assegno anche al ruolo di relatore nel frattempo magari ti leggo anche qualche commento c'è federico molto interessante gennaro massimiliano diego ludovico giovanni alessandro claudio che ti ringraziano stato molto chiaro perfetto andrea ti confermo che stiamo vedendo molto bene le tue slide benissimo allora di persone che stanno rispondo un paio di persone che mi stanno scrivendo in chat risponderemo a tutte le vostre domande finita la presentazione di andrea e niente andrea ti lascio stare ti lascio andare tolgo la mia webcam e il mio microfono insieme a quello di maurizio maurizio ci vediamo nella parte domande risposte buona continuazione a tutti va bene grazie grazie anche a maurizio ma grazie anche a tutti i partecipanti ho visto siete veramente numerosi dunque prima di iniziare questa presentazione vorrei appunto ricordare che kimiberg è il marchio dell'azienda di a che mspa quindi parliamo di un'azienda italiana un'azienda al cento per cento italiana questo è sicuramente bene da da sottolineare di a che ha un'esperienza ormai più di 60 anni di esperienza nel campo della formulazione e anche nel campo della commercializzazione dei prodotti per la difesa delle culture e molti dei prodotti presenti proprio catalogo kimiberg vengono formulati presso lo stabilimento aziendale che ha sede a caravaggio in provincia di bergamo sempre a caravaggio è presente anche ovviamente la sede che è stata inaugurata nel 2012 e tutti gli uffici ricordo inoltre anche di agro che è un'azienda appunto afferente sempre allo stesso gruppo ed è specializzata in prodotti per la nutrizione delle piante mentre più recentemente nel 2017 è stata acquisita una azienda olandese pireco che è specializzata nella ricerca e produzione delle cosiddette biosolution quindi prodotti a base di estratti vegetali dunque oggi in questa presentazione vi parlerò di alcune importanti soluzioni kimiberg per la difesa della peronospora e in particolare parliamo di una novità molto 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 importante parliamo di daramon daramon è un fungicida antiperonosporico a base di ciazzofamide è un prodotto di nostra titolarità quindi un prodotto di titolarità di diachem ed è un prodotto che rappresenta comunque un progetto molto importante per per diachem un progetto iniziato tra il 2013 e con il 2014 con le primissime prove di efficacia a titolo ovviamente registrativo e sempre a titolo registrativo il progetto si è concluso a inizio di di quest'anno esattamente il 16 di gennaio 2020 è stato appunto autorizzato il prodotto dal ministero della salute quindi parliamo di daramon parliamo di un prodotto a base di ciazzofamide in funzione di 100 grammi litro di sostanza attiva formulato in sospensione concentrata ma parliamo anche di una nuova formulazione perché è una nuova formulazione perché in questo caso la ciazzofamide è svincolata dalla presenza di altre sostanze attive già formulate all'interno del prodotto quindi svincolata da fosetil svincolata da fosfonati questo questa caratteristica permette proprio al formulato non solo essere efficace come vedremo anche in alcuni risultati di prove di tipo dimostrativo e registrativo in seguito ma soprattutto riusciamo a ottimizzare la sua flessibilità di impiego a livello quindi di posizionamento di impiego durante la stagione e anche la sua adattabilità quindi riusciamo ad adattare molto bene il formulato a diverse differenti strategie antiperonosporiche quando parliamo di sostanza attiva di ciazzofamide ovviamente ci riferiamo a una sostanza attiva che presenta un'efficacia nei confronti dei funghi omiceti quindi peronospora sicuramente plasmopora viticola ma anche altre peronospore quali ad esempio la fitophthora infestans questo ovviamente per ricordare che il prodotto è autorizzato su vite da vino e da tavola ma anche su alcune importanti orticole quali pomodoro e patata quindi è bene sicuramente utilizzare il formulato l'accezzofamide a livello preventivo quindi con applicazioni di prima dell'evento infettante e sostanza attiva che va tra l'altro a inibire il patogeno a diversi stadi del ciclo vitale un altro aspetto molto importante per quanto riguarda il comparto viticolo riguarda ovviamente il fatto che la ciazzofamide non presenta effetti negativi nei confronti dei lieviti e di fermentazione inoltre la sostanza attiva essendo registrata anche in altri paesi del mondo per quanto riguarda la ciazzofamide è consentito l'import tolerance in numerosi paesi del mondo compreso ovviamente compresi gli stati gli stati uniti ciazzofamide che appartiene alla famiglia chimica dei ciano i midazoli al gruppo dei qii agisce a livello di meccanismo d'azione sulla respirazione mitocondriale e in particolar modo agisce dal lato interno del mitocondrio questo è bene da sottolineare perché perché la ciazzofamide di per sé non presenta resistenza incrociata non si sono evidenziate resistenze incrociate con sostanze attive q o i quindi sostanze attive quali azoxistrobin piraclostrobin che agiscono sempre a livello di respirazione mitocondriale ma dal lato esterno parliamo di Darwin e parliamo anche di una nuova formulazione in quanto da una parte abbiamo la ciazzofamide quindi caratteristiche intrinseche della sostanza attiva che sono inoltre esaltate dalla presenza di uno specifico surfattante organo siliconico già contenuto all'interno del formulato già appunto anche Maurizio accennava l'importanza dell'uso dei coadiuvanti e dei bagnanti per ottimizzare il trattamento quindi da una parte abbiamo la ciazzofamide quindi sostanza attiva caratterizzata per avere un elevato rapporto ottanolo acqua pari a 3,2 vuol dire quindi che la sostanza attiva presenta una spiccata affinità con le cere cuticolari e una moderata capacità di penetrazione all'interno della vegetazione trattata il tutto si traduce in una elevata resistenza all'azione di lavante delle piogge ma all'interno del formulato è già presente un bagnante un organo siliconico, un surfattante tensioattivo non ionico di ultima generazione che quindi va ulteriormente ad abbassare la tensione superficiale e pertanto va a massimizzare la bagnatura e soprattutto favorisce l'adesività del prodotto sulla vegetazione quindi ciazzofamide più organo siliconico determina una resistenza molto elevata e un'adesività appunto alivata sulla vegetazione resistenza al dilavamento che tra l'altro è stata oggetto di studio nel corso dell'ultima stagione viticola nel 2019, sono state effettuate delle prove di efficacia con la collaborazione del centro di saggio Sagea in Piemonte e in particolare questa prova è stata effettuata in semicampo su piante di vite messe a dimora in vaso valutando poi l'efficacia sulle foglie delle piante di vite piante che sono state trattate con il formulato d'Aramun alla dose di un litro ettaro dose di un litro ettaro che rappresenta la dose media e pratica di impiego con l'apporto appunto di 100 grammi di sostanza attiva a ettaro per trattamento successivamente, immediatamente dopo l'applicazione lasciando giusto il tempo al prodotto di asciugarsi tendenzialmente un 30 minuti dopo il trattamento abbiamo simulato delle precipitazioni precipitazioni di diversa entità di 40, di 60 e addirittura fino a 100 mm di pioggia questo per andare a stressare anche un po' il prodotto e valutarne poi di conseguenza l'efficacia 24 ore dopo il trattamento inoltre è stato effettuato un inoculo con plasmopara viticola ecco, possiamo vedere il risultato di questa prova andando a considerare quanto rilevato su testimone non trattato quindi un attacco molto alto da parte di peronospora parliamo di un 53% per quanto riguarda la severità e un'incidenza superiore al 95%, 95,5% questo vuol dire che tutte, praticamente, o quasi tutte le foglie erano colpite almeno con una macchia d'olio sintomatica appunto di peronospora ecco, a fronte di questo attacco molto elevato abbiamo registrato un'efficacia altissima quasi del 100% sulle foglie per quanto riguarda la severità e per quanto riguarda appunto le tesi non dilavata la tesi dilavata a 40 mm quella dilavata a 60 mm e un'efficacia che cala ma raggiunge comunque il 90% di efficacia quindi sicuramente un valore decisamente alto soprattutto considerando la situazione dell'ultima tesi dove abbiamo simulato una pioggia estrema una quantità di precipitazione pari a 100 mm quindi sicuramente un ottimo risultato proprio a rimarcare l'adesività e la resistenza di lavamento del formulato quindi considerando le prove di efficacia a titolo registrativo che sono state effettuate nel corso degli anni e anche delle prove di tipo dimostrativo che vedremo in seguito possiamo dire che il formulato è un risultato sicuramente efficace per la difesa del grappolo ma anche su foglia considerando inoltre le proprietà del formulato quindi l'affinità con le cere cuticolari tendenzialmente suggeriamo un posizionamento per la difesa del grappolo con applicazioni di tipo preventivo in abbinamento con formulati a diverso meccanismo d'azione quindi con sostanze attive che hanno un meccanismo di azione complementare quindi anche considerando quanto riportato esplicitamente in etichetta possiamo considerare trattamenti con Daramon da 2 a 4 interventi nel corso della stagione in etichetta abbiamo un massimo di 4 interventi per anno una dose che va appunto da 0,9 a 1,1 litro quindi consideriamo un litro ettaro come dose media e anche più pratica di impiego sempre da etichetta abbiamo un'ampia finestra di impiego del prodotto che potremmo partire addirittura dalle primissime foglie di stese fino alla maturazione nel rispetto ovviamente dell'intervallo di sicurezza che è pari a 21 giorni per il formulato Daramon in questa situazione in questa ipotetica strategia di difesa abbiamo posizionato 2-4 interventi di Daramon da post-fioritura Daramon appunto da abbinare a diversi prodotti in questo caso possiamo vedere subito dopo la fioritura l'aggiunta di Tepeta Combiflo che contiene folpet e rame solfato tribasico in funzione di 360 e 120 grammi litro ecco subito dopo la fioritura ad esempio potremmo sfruttare l'azione del folpet l'azione collaterale anche nei confronti di un altro patogeno che è appunto la botrite in fasi successive per la difesa del grappolo possiamo andare avanti con la difesa utilizzando Daramon e miscela con altri partner ad esempio con lo Shelter che contiene Cimoxani quindi un litro di Daramon e 300 grammi di formulato di Shelter ma possiamo utilizzare Daramon anche con altri prodotti anche con altre sostanze attive con gli stessi rameci ma anche con altre sostanze attive questo proprio a rimarcare la sua adattabilità durante la stagione e con diversi partner ecco in questa strategia abbiamo posizionato prima della fioritura a cavallo della fioritura un prodotto che è il Cometaflow che è prettamente sistemico grazie alla presenza del metallo Axil M e poi diciamo il Cometaflow che si completa col suo partner affidabile che è il solfato tribasico di rame ovviamente possiamo posizionare Daramon anche nelle fasi prima della fioritura in questo caso conviene utilizzare ovviamente in miscela un partner sistemico in queste fasi quale ad esempio il fosetil alluminio quindi Contender 800 e Contender Plus che contengono 80% di fosetil alluminio dunque nel corso del 2019 sono state effettuate diverse prove di tipo dimostrativo da Nord a Sud Italia su Vita da Vino ma anche su Vada Tavola e prove che avevano scopo di valutare sia l'efficacia del formulato ma anche la sua interazione all'interno di altre strategie ovviamente Chimiberg per la difesa antiperonosporica questo proprio per andare a valutare la sua flessibilità di impiego come dicevamo a livello di posizionamento durante la stagione e la sua adattabilità a diverse strategie antiperonosporiche quindi come sono state impostate le prove di tipo dimostrativo avevamo sicuramente un testimone non trattato e tre tesi in cui abbiamo applicato Daramon con diverso numero di applicazioni e diversi partner quindi in miscela un primo blocco di trattamenti è stato uguale per tutte e tre le tesi in cui abbiamo utilizzato il Daramon quindi un primo blocco da foglie distese a grappoli visibili siamo partiti con trattamenti con Tepeta CombiFlow in questo caso Folpet Rame Folpet che può avere anche un'azione nei confronti delle scoriosi qualora fosse necessario nelle primissime fasi e poi siamo andati avanti con trattamenti appunto di copertura con i nostri rameici con King che contiene 360 grammi litro di rame da solfato tribasico anche l'ultimo blocco di trattamenti è risultato uguale per tutte le tesi con trattamenti da chiusura grappoli e avanti trattamenti di copertura con King o con Coptwin quindi solfato tribasico solfato tribasico più drossido anche nel rispetto appunto del limite dei 4 kg di rame medi quindi apporto di ioni rame a ettaro durante la stagione questo perché appunto il 2019 è stato proprio il primo anno in cui abbiamo vissuto questa nuova limitazione per quanto riguarda il rame quindi i trattamenti sostanzialmente con la ceazofamide si sono differenziati da prefioritura a pre-chiusura grappolo nella prima tesi vediamo che abbiamo applicato quattro trattamenti con la ceazofamide con Daramon di cui primi due con fosetti d'alluminio prima della fioritura e due trattamenti ceazofamide Daramon più Shelter più Cinmoxanil invece per la difesa del grappolo quindi quattro trattamenti come previsto da etichetta nella seconda tesi invece abbiamo applicato due trattamenti Daramon più Shelter per la difesa del grappolo preceduti appunto da due trattamenti con il Cumeta Flow proprio per sfruttare l'azione sistemica del metallaxil M un trattamento di Cumeta Flow nella terza tesi seguita da tre trattamenti con la ceazofamide con Daramon i primi due con Tepeta con Biflow e il terzo con Daramon più Shelter quindi ceazofamide più Cimox strategie molto simili anche per l'uva da tavola strategie che però in parte sono state adattate e readattate anche per venire un po' incontro a quanto diciamo imposto dalle limitazioni previste dalla GDO dalla grande distribuzione organizzata in termini di limiti di residui delle sostanze attive in questa slide possiamo vedere proprio i risultati di una prova di efficacia su uva da vino su vite da vino prova di efficacia effettuata in collaborazione con il centro di saggio Astra siamo in Emilia Romagna più precisamente a Bagna Cavallo in provincia di Ravenna e vi mostriamo questa prova perché su testimone non trattato è stato registrato un attacco notevole molto molto alto parliamo di un'incidenza del 100% su foglie e su grappoli quindi il massimo che potevamo aspettare a livello di incidenza e una severità molto molto alta anche in questo caso tra il 62 e 63% appunto di foglie e grappoli ecco a fronte di questo attacco nelle tesi in cui abbiamo utilizzato l'acceazofamide e le varie strategie appunto di Chimiber per il contenimento della peronospora abbiamo osservato un'efficacia molto alta su foglie pari al 90% o quasi e tra il 98 e quasi 100% invece per la difesa del grappolo ecco questa era la situazione che abbiamo registrato nel corso delle prime settimane di luglio su testimone non trattato con i grappolini che in verità sono stati colpiti già dalle primissime fasi col tipico sintomo del grappolo a uncino determinato dalla presenza della peronospora e quanto invece si rilevava invece nelle tesi trattate con l'acceazofamide quindi con Dharamon e le altre strategie Chimiberg nella seconda nella seconda prova in questa seconda prova invece siamo su Vada Tavola siamo a Castellaneta in provincia di Taranto varietà Crimson Seedless in questo caso la prova è stata effettuata in collaborazione col centro di saggio agricola 2000 l'attacco su testimone non trattato è stato ovviamente più contenuto rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza ma comunque un attacco del 21% su foglia e il 37% su grappolo e nelle tesi non si presentano differenze statisticamente significative tra le tre strategie programmate con efficacia tra il 90% e il 98% su foglia e quasi del 100% su grappolo ecco questa è la situazione su testimone non trattato e questa invece quanto si osservava su tesi trattate con le strategie Chimiberg in questa prova inoltre abbiamo fatto anche un campionamento delle uve che sono state poi portate al laboratorio per analizzare i limiti di residui per quanto riguarda appunto la ceazofamide ricordo che a livello normativo il limite massimo di residuo previsto per la ceazofamide è pari a due parti per milione e questo è quanto è stato rilevato nelle nostre campioni quindi un valore molto molto basso quasi infinitesimo parliamo di 0,06 o 7 parti per milione quindi molto contenuto tra l'altro valore che è stato osservato e registrato nella tesi in cui abbiamo applicato quattro trattamenti di ceazofamide con applicazioni più posticipate e con prelievo di campioni che è avvenuto a intervallo di sicurezza quindi 21 giorni dopo l'ultimo trattamento con la ceazofamide e non a completa maturazione e quindi se fossimo andati a completa maturazione quasi sicuramente questo valore sarebbe risultato ancora più più contenuto quindi Dharamon è risultato efficace per il contenimento della peronospora sia nelle prove di tipo ovviamente registrativo sia nelle prove di tipo dimostrativo come abbiamo appena osservato è risultato appunto flessibile a livello di posizionamento di impiego e adattabile a diverse strategie di intervento adattabile quindi in miscela anche con altre sostanze attive antiperonosporiche ricordo che il formulato è compatibile appunto con numerose altre sostanze attive Dharamon è una sospensione concentrata vedremo in seguito anche le caratteristiche qualitative delle formulazioni sospensioni concentrate di Diachem ricordo che Dharamon è autorizzato sia su vite da vino che su va da tavola e poi anche su pomodoro e patata questa è la classificazione CLP quindi abbiamo un unico pittogramma con l'impatto ambientale e per quanto riguarda la vite ricordo appunto le dosi vanno da 0,9 a 1,1 litro diciamo un litro ettaro che è molto pratico anche considerando le confezioni quindi il flacone da un litro adatto per il trattamento per un ettaro e la tannica da 5 litri per più ettari massimo di 4 trattamenti a stagione e appunto 21 giorni di intervallo di sicurezza dunque parlando di Dharamon abbiamo visto comunque anche in generale diverse strategie Chimiberg per la difesa antiperonosporica e tra i diversi prodotti citati abbiamo spesso parlato di rame da solfato tribasico o TBCS dall'acronimo inglese Tribasic Copper Sulfate il solfato tribasico di rame in particolare è un idrossi solfato di rame che presenta un pH prossimo a 7 quindi prossimo alla neutralità molto importante anche per la sua selettività sulla cultura ovviamente sappiamo che l'efficacia e la selettività dipendono dalla quantità di ioni rame che vengono liberati nel tempo e le caratteristiche chimiche e fisiche di ogni sale cuprico ne condizionano il loro rilascio più o meno graduale nel tempo ecco nel solfato tribasico una parte del rame risulta rapidamente biodisponibile mentre un'altra parte si solubilizza più lentamente e questo comportamento lo vediamo molto bene nel grafico qui rappresentato comportamento che vediamo nella curva blu che è quella più ampia rappresentata in questo caso da king e idrorame che appunto contengono rame da solfato tribasico a differente concentrazione e vediamo proprio che il solfato tribasico risulta la forma di rame che realizza a nostro avviso il miglior compromesso tra la prontezza d'azione e la persistenza d'azione oltre che alla selettività sicuramente una curva molto più ampia rispetto all'idrossido che risulta più pronto ma manca di persistenza e viceversa l'ossi coloruro quindi solfato tribasico di chimiber contenuto in idrorame flow è 193 quindi sia nelle formulazioni colorate non nella formulazione classica 193 grammi litro di rame ma anche nelle più a più elevata concentrazione 360 grammi litro quindi parliamo in questo caso di king un altro prodotto a base di rame che ormai sta diventando un marchio storico di chimiberg è coptwin che contiene 300 grammi litro di rame di cui 180 da solfato tribasico e 120 da idrossido perché questa particolare miscela di due sali cuprici perché da una parte riusciamo a sfruttare molto bene l'equilibrio di prontezza e persistenza d'azione del tribasico dall'altra invece abbiamo l'idrossido quindi riusciamo a potenziare diciamo il formulato in termini di ulteriore prontezza coptwin che ricordo appunto una dose di impiego di due litri ettaro su vite ovviamente i vantaggi del solfato tribasico si trasmettono anche alle miscele che contengono solfato tribasico più sostanze attive e sistemiche ed è il caso del cometa flow ne parlo perché anche in precedenza abbiamo visto il suo impiego nelle strategie proposte quindi cometa flow che contiene metallaxile M 24 grammi litro metallaxile M che ricordo appunto è l'isomero attivo nei confronti degli omiceti è consentito l'isomero M per anche nei disciplinari di produzione appunto integrata e caratterizzata la molecola sostanzativa da un rapido assorbimento che ne permette appunto la sottrazione all'azione di lavante di eventuali piogge successiva appunto al trattamento e ovviamente sostanza attiva che è caratterizzata per avere un'elevata mobilità sistemica dall'altra parte però abbiamo il solfato tribasico quindi il partner che riteniamo più affidabile in termini di sale cuprico questo perché rappresenta il solfato tribasico il miglior partner per il metallaxile M quindi riusciamo ad avere un adeguato apporto di rame metallo per ettaro che si adatta molto bene agli intervalli consigliati per il metallaxile M ovviamente opportunatamente dosato questo grazie all'equilibrio appunto tra la prontezza e la persistenza d'azione del tribasico ecco Cometaflow ovviamente è una sospensione concentrata così come la sospensione concentrata è Daramun King Coptwin Idrorame vedremo poi in seguito anche un altro formulato tiolene diciamo che Diachem è stata una delle primissime aziende a introdurre sul mercato nel comparto degli agrofarmaci nel comparto agrochimico questa tipologia di formulazione quindi ha una notevole esperienza nel campo delle sospensioni concentrate quindi parliamo di una formulazione di qualità di qualità anche perché appunto priva le sospensioni concentrate sono prive di solventi presentano un'equilibrata distribuzione granulometrica che questo tende a favorire ovviamente una copertura più uniforme della vegetazione trattata sospensioni che sono anche caratterizzate per un'elevata sospendibilità quindi la dispersione tende a non separarsi nel tempo e caratterizzate anche per un trascurabile residuo alla vagliatura quindi questo proprio grazie all'elevata finezza delle particelle che rimangono in dispersione appunto in sospensione ovviamente parliamo di sospensioni concentrate quindi assenza di polveri e quindi meno rischio di esposizione da parte dell'operatore da parte dell'utilizzatore e in questa immagine vediamo appunto come si comportano le sospensioni concentrate che risultano facilmente e completamente disperdibili in acqua e in pochissimo poco tempo dunque abbiamo parlato fino adesso di diverse strategie antiperonosporiche citando Daramon citando Comitaflow e altri prodotti sicuramente molto molto importanti per la difesa antiperonosporica ovviamente a livello di catalogo Kimiberg abbiamo una linea veramente completa e volevo nelle prossime slide parlare di un altro patogeno in questo caso mi riferisco all'oidio per parlarvi di due prodotti uno è tiolene che è un prodotto storico a base di zolfo e l'altro invece è una novità per quanto riguarda il nostro nostro catalogo quindi tiolene è un fungicida antioidico in sospensione concentrata a base di zolfo micronizzato 800 grammi litro di sostanza attiva appunto micronizzata diciamo che ormai più di due anni fa il prodotto è stato riregistrato e in fase di registrazione è stata anche migliorata l'etichetta sia in termini di campi di impiego quindi più dettagliati ricordo che su vite il tiolene può essere utilizzato una dose da 3 a 4 litri ettaro con un numero massimo di 8 trattamenti e un intervallo di sicurezza di 5 giorni ma sono cambiate appunto in fase di riregistrazione migliorate anche altre caratteristiche di etichetta quindi sicuramente la classificazione CLP che non prevede nessun tipo di pittogramma e tra l'altro in etichetta non sono previste neanche le buffer zone parliamo ovviamente di tiolene abbiamo detto una sospensione concentrata quindi un'importante anche qualità formulativa ma soprattutto a livello formulativo è bene far presente che tiolene contiene un apposito surfattante uno specifico surfattante che va quindi a migliorare la bagnatura quindi favorisce un'ottima bagnatura del prodotto sulla vegetazione favorisce anche la sua disperdibilità e una buona compatibilità quindi questo per ovviamente cercare di ottimizzare il prodotto e il trattamento sulla vegetazione aumentando la sua adesività il secondo prodotto antioidico invece è Tomiris 125EV ve ne parlo perché è una novità per quanto riguarda il nostro catalogo parliamo di un triazolo di un tetraconazolo 125 grammi litro di sostanza attiva e in particolare quando parliamo di tetraconazolo ci riferiamo a un triazolo di cosiddetta seconda generazione che presenta un equilibrio tra la parte liposolubile idrosolubile che ne determina quindi sia una ottima persistenza del formulato sia una buona sistemia Tomiris ha un'etichetta molto molto ampia ovviamente autorizzato su vite per il contenimento dell'oidio con azione collaterale anche nei confronti di marciume nero quindi di black rot la dose di impiego è di 240 ml ettaro tre trattamenti su vite e 30 giorni l'intervallo di sicurezza infine prima di chiudere di concludere questa presentazione vorrei parlarvi anche di di vector questo perché in precedenza abbiamo accennato all'importanza di di alcuni coadiuvanti alcuni coadiuvanti che sono già contenuti in prodotti quali daramon e etiolene che ne aumentano appunto l'adesività ma è bene appunto rimarcare anche la possibilità di aggiungere durante i trattamenti un apposito bagnante ci riferiamo quindi a vector a base di alcol isodecilico etossilato 100 grammi litro e in particolare quando parliamo di vector parliamo di un prodotto di un'etichetta veramente molto molto ampia questo perché può essere utilizzato ovviamente su vite da vino e da tavola ma su tutte le culture a prescindere il prodotto può essere utilizzato in abbinamento ai fungicidi quindi a tutte le famiglie chimiche dei fungicidi può essere utilizzato in abbinamento agli insetticidi piretroidi pensiamo ad esempio al meteor a base di delta metrina e può essere utilizzato anche in abbinamento a diversi erbicidi quindi è bene utilizzare appunto i coadiuvanti i bagnanti proprio perché dobbiamo cercare ovviamente in campo di ottimizzare il nostro trattamento e quindi di andare a massimizzare l'efficacia del trattamento in campo concludendo un po' questa presentazione volevo fare un cenno su altri prodotti della linea difesa in questo caso mi riferisco a linea difesa vite per quanto riguarda insetti avremo modo nei prossimi appuntamenti nei prossimi webinar di parlare in modo approfondito anche di questi tre prodotti in particolare di Fidelity che contiene spinetoram in funzione di 120 grammi litro di sostanza attiva Fidelity è una sospensione concentrata un prodotto che presenta una forte attività larvicida nei confronti delle tignole con ampio spettro e adeguata adeguata persistenza ma parleremo anche di di Beltirul e di Piretro Actigreen quindi in questo caso questi ultimi due prodotti consentiti anche in agricoltura biologica prodotti a base rispettivamente di Bacillus Turingiensis e di Piretrine Naturali al 2% quindi avremo modo nei prossimi webinar di parlare nel corso del primo webinar il 19 di di maggio alle 18 delle strategie focalizzate soprattutto per il contenimento delle tignole per il nord Italia e invece il 20 di maggio per il centro e sud Italia tra l'altro con dei relatori molto importanti cui Marchesini e il professor Germinaro ecco chiudendo concludendo la presentazione volevo giusto presentarvi le ultime campagne che sono state lanciate su internet quindi la prima per ricordare ovviamente l'importanza di chi opera nel settore agricolo l'importanza degli agricoltori ma anche dei tecnici e se vogliamo anche di tutte le persone che a diverso titolo a diverso livello operano nel settore agroalimentare soprattutto in questo momento sicuramente delicato la campagna più recente ce l'abbiamo lanciata con un messaggio distanziati ma mai così vicini anche se per fortuna ci apprestiamo ad affrontare questa cosiddetta fase 2 messaggio che è stato lanciato sui nostri social Facebook LinkedIn e YouTube e ricordo che sul nostro canale YouTube verrà caricata anche la registrazione di questo webinar di oggi quindi vi invito insomma a seguirci anche sui canali social per ulteriori novità e intanto vi ringrazio per l'attenzione ho riportato anche comunque il mio nominativo il mio riferimento mail per qualsiasi ulteriore approfondimento anche nelle prossime giorni grazie mille Andrea intanto vedo che stanno già arrivando delle domande stanno arrivando tantissimi complimenti che sto condividendo in chat sono sicuro che il pubblico li può vedere non so se tu Andrea o tu Maurizio riuscite a vedere in chat invece complimenti che vi arrivano ma veramente piovono complimenti grazie per la chiarezza dell'esposizione ad entrambi dice Antonio Carla insomma Massimiliano Giuseppe sono gli ultimi quattro che hanno scritto ma ce ne sono davvero tantissimi c'era Pietro prima Sabrina Margherita Giulia adesso Antonio Gaetano adesso perfetto io mi riattacco a quello che ha detto Andrea prima perché praticamente sempre assieme a noi organizzeremo due webinar dedicati alla difesa contro Tignoretta il primo vi condivido ora in chat il link per iscrivervi in in anteprima lo stiamo lanciando adesso ricorda tutti quanti che i webinar che organizziamo hanno un limite la piattaforma ha un limite tecnico quindi non ci si può iscrivere e non si può partecipare oltre un limite quindi per essere sicuri di poter partecipare iscrivetevi subito il primo che ho condiviso è quello del 19 il 19 e sarà invece alle 6 di pomeriggio quindi iscrivetevi adesso ed è specifico per la difesa nel nord Italia mentre adesso vi condivido il secondo e metto magari sud e il link e secondo invece è sempre quello per specifico per la difesa nel centro sud Italia allora Francesco ci dice che non riesci a visualizzare i link provo un attimo in caso fammi sapere quale dei due ti interessa se no comunque allora adesso voi potete scrivere in anteprima però comunque poi li pubblicheremo su Infowine e vedrete nelle nostre newsletter sui nostri social eccetera tutti i dettagli e avrete ancora la possibilità di scriverli mi si è bloccato un attimo mi sta la connessione non so tu mi senti Andrea giusto? io ti sento intanto ti ciò che appunto anche sui nostri social lanceremo appunto l'invito quindi insomma vi invito anche per questo a seguirvi e a registrarvi non ho fatto ulteriori spoiler per i prossimi approfondimenti legati alla difesa vite perché appunto verranno approfonditi decisamente nelle giornate del 19 e del 20 maggio entrambe alle ore di 18 adesso mi sa che abbiamo perso invece Francesco spero che sia io ci sono ti sento non ti vedo però non ti vediamo non so perché mi avete fatto cadere la connessione mi avete scritto in troppi non so cosa mi avete fatto adesso proverò a riattivare in qualche modo la webcam in caso è colpa vostra che siete in troppi che scrivete allora io intanto passo un attimo le domande magari cerco di farne una per Maurizio e una per te Andrea ok partiamo da questa qua è in realtà un po' per entrambi Alessandro chiede se si sta trovando nel campo della ricerca un prodotto sostitutivo al rame quindi sia ricerca vostra interna che magari non so Maurizio se tu hai idea di altre soluzioni che ci possono essere beh intanto sostitutivo al rame per il biologico perché in convenzionale di sostitutivi al rame non ne mancano di sicuro anche se devo dire che si continua a usarlo il rame anche in convenzionale soprattutto i trattamenti di chiusura perché per alcuni aspetti è difficilmente sostituibile il rame ma veri e propri prodotti sostitutivi beh ovviamente la ricerca sì la ricerca va avanti c'è interesse anche da parte dell'industria però devo dire che in campo biologico veri e propri sostituti del rame finora non possiamo dire di averne ci sono prodotti soprattutto c'è questo campo degli induttori di resistenza che certamente sono dei partner efficaci che consentono di ridurre i quantitativi questo sì però sostituire totalmente il rame attualmente in biologico mi pare è una cosa non possibile se non in situazioni veramente di pressione del patogeno molto molto bassa annate particolarmente asciutte però sicuramente nel nord italia almeno e anche nel centro non è pensabile e anche al sud in realtà la peronospora ha aumentata la sua pericolosità negli ultimi anni perché i cambiamenti climatici hanno determinato anche questo perfetto grazie mille Maurizio lascio rispondere a te magari Andrea sì aggiungo questo sicuramente come azienda stiamo attivando anche delle ricerche in quest'ottica diciamo che è importante comunque a livello di utilizzo del rame in bio utilizzare prodotti che possano permettere appunto un adeguato apporto di rame per questo abbiamo citato alcuni dei prodotti a base tribasico l'azienda ha sempre creduto in questa forma di sale cuprico proprio per la sua caratteristica di prontezza ma anche persistenza di azione per quanto riguarda il convenzionale diciamo che oltretutto la possibilità di avere sempre più strumenti in questo caso mi riferisco anche al Darmo quindi a un prodotto che se vogliamo può essere un prodotto di copertura di seconda generazione definiamolo così permette di sicuramente ottimizzare i trattamenti e di adattarli molto bene ma soprattutto ottimizzare come abbiamo visto anche nelle strategie noi abbiamo impostato le prove anche con lo scopo proprio di rimanere all'interno e ben al di sotto dei 4 kg ettaro median quindi è molto importante andare a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione perfetto grazie mille Andrea io provo un attimo a fare così ti riassegno il ruolo del relatore che non so perché ma mi sa che ho dei mini professioni quindi lascio a te la ecco l'onere di condividere lo schermo quindi ti confermo che lo vediamo perfettamente non so se mi si vede in webcam io mi vedo mi vedo ma fermo però vedo le vostre che sono attive quindi voi quantomeno non avete problemi voi che siete le vere star di questo webinar quindi procediamo ancora Carlo ci chiede qualche accortezza o prodotto per il biologico beh li ho citati li abbiamo già citati insomma partiamo soprattutto di biostimolanti induttori di resistenza e eventualmente della ziolite come partner quindi si estratti vegetali microrganismi e estratti di lievito questi sono i prodotti più efficaci comunque già in commercio se vuoi aggiungere tu qualcosa Andrea ma no ricordo appunto i nostri i nostri prodotti più che altro per il biologico ovviamente quindi dicevamo il king copto in idrorame il tiolene anche per il contenimento dello zolfo quindi a base di zolfo parleremo in verità anche nei prossimi webinar di due prodotti sempre consentiti in bio a base di bacillus turingiensis e epiretro actigreen e anche in quest'ottica vedremo per il controllo ovviamente delle tignole una strategia anche prevista per il biologico ecco grazie mille Andrea allora adesso faccio una domanda che che è indirizzata mi chiede Giovanna sì sì ecco Giovanna che mi chiede se è possibile usare Dara Moon solo in post fioritura beh sì nel senso che che Dara Moon abbiamo visto si presta molto bene a diverse diverse fasi fenologiche del vigneto quindi possiamo usare in post fioritura con un paio di due tre trattamenti diverse miscele ovviamente come dicevo anche prima lo possiamo utilizzare però anche per fioritura quindi anticipando i trattamenti diciamo che a seconda del posizionamento è bene utilizzare un adeguato partner quindi se lo utilizziamo prima della fioritura andremo ad aggiungere un fusetile alluminio quindi una sostanza sicuramente sistemica se andiamo in seguito possiamo aggiungere un cimoxanil o abbiamo visto addirittura subito dopo la fioritura un'applicazione con il folpet come dicevo per sfruttare tutte le caratteristiche anche del partner e quindi in questo caso dell'azione collaterale anche antibotritica in una fase comunque importante per questo altro target quindi riusciamo a completare secondo me molto bene la strategia a inserire Daramon in diverse strategie questo è proprio il punto di forza del formulato che è svincolato da altre sostanze attive quindi di volta in volta andremo a fare delle miscele scegliendo il suo partner affidato perfetto grazie mille Andrea allora adesso passo un attimo la domanda di Giulio che ci chiede per te Maurizio questa era arrivata durante la tua presentazione mi dice quindi generalizzando si può dire che si deve trattare prima della pioggia e in base alla quantità d'acqua magari anticipare il trattamento seguente sì in linea di massima trattare prima della pioggia è la strategia più consigliabile la quantità di pioggia sì più che altro è importante per valutare la possibilità di dilavamento nel senso che se ho appena trattato trattato ieri e oggi piovono 7-8 mm sostanzialmente la vegetazione è coperta se ne piovono 40-50 ho usato un prodotto di copertura bisogna considerare che c'è stato prima il dilavamento e poi la possibilità di una seconda infezione nel momento in cui la pianta era scoperta per cui chiaramente devo poi intervenire in questo caso con la tecnica della lotta tempestiva quindi o usare un prodotto curativo retroattivo subito dopo la pioggia appena si può oppure aspettare l'80-85% del periodo di incubazione e poi trattare perfetto grazie mille Maurizio mentre per te Andrea ci sono diverse persone tra cui adesso ho denaro ma c'era prima anche il prodotto quindi Daramun ha effetto sulla qualità enologica delle uve dunque abbiamo visto che non interferisce sui lieviti a livello di fasi più avanzate anche di maturazione quindi non ci sono problemi a livello di vinificazione e poi l'altro aspetto che ricordavo è anche l'import tolerance che è consentito negli Stati Uniti sempre più richiesto questo aspetto perché ovviamente i vini prodotti da uve trattate con la cazofamide li possiamo esportare anche in un mercato importante quello degli Stati Uniti sicuramente perfetto grazie mille una domanda per te Maurizio mi chiedono se cosa ne pensi insomma delle viti resistenti beh qui ci sembra un webinar a parte sicuramente beh le viti resistenti sono resistenti cioè anche se non è una resistenza completa in realtà assoluta però sono molto più resistenti perché i geni di resistenza sono molto più attivi che nella vita europea sono incroci con viti che sono più resistenti e cosa ne penso io sono abbastanza convinto che in futuro sarà necessario affidarsi di più alla genetica adesso come se attraverso l'incrocio se attraverso l'editing del genoma questo questo non lo so ma sicuramente se vogliamo se vogliamo ridurre l'impatto dei fungicidi in viticoltura non possiamo trascurare la genetica naturalmente questo si porta dietro a tutta una serie di interrogativi sulla qualità dei vini sulla tipicità sulla tradizione è un discorso molto ampio però a mio avviso è una porta che non si deve chiudere perfetto grazie mille Maurizio rispondo anche a un'altra domanda che ho visto già che ci sono mi sembra interessante qualcuno ha scritto che ha avuto una larvata senza avere la primaria allora qui le spiegazioni possibili sono due una è che semplicemente la larvata era la primaria nel senso che magari non si sono verificate le condizioni di una primaria prima ma si sono verificate proprio in quella fase lì in cui la vita era recettiva alla larvata e quindi si è beccato questa larvata altra ipotesi forse un po' più probabile è che la primaria ci sia stata ma sia stata una primaria di intensità molto bassa e quindi non sia stata riconosciuta perché magari c'era solo qualche foglia ed è sfuggita però è stata sufficiente per innescare una secondaria e magari anche insieme a una seconda primaria perché comunque soprattutto in alcune annate è possibile che nel periodo diciamo di fine giugno ci siano ancora delle osfore attive che quindi possono dare una primaria anche se ormai il quantitativo dovrebbe essere basso la cosa più probabile è che ci sia stata una primaria poco importante che sia passata inosservata però sia stato sufficiente a creare poi un anno dopo perfetto grazie mille Maurizio faccio la domanda invece per te Andrea che viene da Giancarlo e ci chiede se i prodotti citati e consentiti in agricoltura biologica vado a memoria mi pare fosse il coptwing forse forse tiolene beh a memoria potrebbero non essere solo questi mi chiede se sono esenti da trasfiti sì allora a proposito possiamo dire che prodotti citati quindi sicuramente tiolene a base di zolfo ma anche prodotti a base di rame quindi idrorame flow 193 king king 360 hp e coptwing sono appunto esenti da fosfiti quindi parliamo di assenza di acido fosforoso e fosfonico e recentemente è stato proprio effettuato un'analisi in questi termini quindi sì confermo che sono esenti da fosfiti abbiamo anche un'apposita dichiarazione in merito perfetto grazie mille Andrea visto che a inizio il webinar avevo detto a tutti che avremmo condiviso noi di un'idea un webinar bonus che riserviamo in esclusiva a quelli che stanno partecipando al webinar di oggi lo rivelo adesso la salute legata agli alimenti fermentati quindi ci sarà un medico che parlerà domani sera alle 18 condivido in chat con voi la possibilità di iscriversi al webinar basta che cliccate sul link vi si apre la pagina interessanti c'è la descrizione voi iscrivete è un webinar gratuito anche voi se volete iscrivervi Maurizio magari poi ti giro in chat il link per farlo spero di sto avendo dei mini problemi alla connessione non so bene per quale motivo ricordo comunque sperando di non cadere ricordo a tutti che nella sezione se aprite il pannellino di controllo quindi con la fraccettina arancione provate una sezione che si chiama documenti all'interno potrete trovare dei documenti tecnici che riguardano un po' la presentazione di oggi fatemi sapere se riuscite a scaricare quei documenti intanto io continuo con le domande passiamo una domanda per Maurizio allora Lorenzo mi chiede qual era il colorante per i postiti e la dose per il controllo della qualità della dispersione del prodotto grazie dunque è un colorante alimentare rosso adesso il nome non me lo ricordo l'avevo preso su Amazon comunque e penso che lo trova facilmente è un barattolo da 250 cc e si possono colorare 100 litri d'acqua almeno io avevo fatto una prova in piccolo ho più o meno trovato quella diluizione lì adesso il nome non me lo ricordo se vuole posso andarlo a cercare ma comunque su Amazon ma il colorante alimentari lo trova facilmente perfetto grazie mille grazie mille Maurizio ho diversi feedback da da Ludovico Melissa Rita Irene Fortunato Giancarlo che riescono a scaricare i documenti quindi perfetto ripeto a tutti se volete scaricare i documenti basta che se siete da computer cliccate sulla freccetina vi si apre lo strumento c'è la sezione documenti li potete scaricare ok Maria mi conferma che li vede fatto Paolo perfetto ok scaricati ok perfetto 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 allora continuiamo con le domande Andrea allora Marco ci chiede la qui io non riesco mai a leggere questi prodotti qui che sono la ciazofamide presenta resistenza incrociata con altri meccanismi d'azione ok allora ne abbiamo in parte già accennato durante la presentazione però effettivamente è bene anche ricordarlo e stolinearlo allora la ciazofamide appartiene al gruppo dei QI quindi sono sostanze attive che agiscono sempre sulla respirazione mitocondriale QI sta per archinone inside inhibitor il che vuol dire che agiscono dal lato interno del mitocondrio del citocromo legandosi sempre al sito Q e abbiamo visto che invece le sostanze attive QOI che sono azoxistrobin piraclostrobin chesoxim famoxadone agiscono sempre sulla respirazione ma sono appunto QOI quindi chinone outside inhibitor e quindi agiscono dal lato esterno del mitocondrio questa caratteristica differenzia perché non si evidenziano effettivamente resistenze incrociate tra ciazofamide e le altre sostanze attive quindi ciazofamide non ha resistenza incrociata con altre sostanze attive tra l'altro come abbiamo visto anche nelle prove di efficacia abbiamo utilizzato sempre il prodotto in miscela con altre soluzioni quindi direi che mettiamo in pratica le più che ottimali pratiche agricole e un'ottimale gestione della resistenza a tutti gli effetti perfetto grazie mille Andrea io a quanto pare sono riuscito sono tornato in webcam fantastico meno male continuiamo un attimo con una domanda per Maurizio anzi questa è più una provocazione di Cepaolo la lotta tempestiva declinata dagli amici trentini prevedeva l'intervento dopo la comparsa delle prime macchine per un ospora e di intervenire in curativo dopo qualche anno di entusiasmo è arrivato Caporetto quindi non era proprio una domanda era una piccola provocazione confermo non so se fosse la linea del Trentino so che era la linea di Leinburg quindi Alto Adige ma probabilmente anche del Trentino perlomeno in annate così magari non non particolarmente piovose c'era questa indicazione qui però al momento questa indicazione è stata è stata abbandonata ma in realtà non è una tecnica da escludere del tutto nel senso che faccio un'ipotesi io ho una previsione di pioggia di 10 mm cioè diciamo che sono proprio al limite della regola dei 3-10 e magari vengono da un periodo di siccità come è successo anche quest'anno in Piemonte per esempio l'infezione è improbabile l'infezione è improbabile e se c'è sarà probabilmente di bassa entità in questo caso io potrei anche rischiare di non trattare aspettare vedere se escono le macchie se non escono non tratto e se escono tratto sapendo che se escono probabilmente saranno molto limitate è una cosa che si può fare diciamo che non è un consiglio che io darei a livello territoriale ecco perché mi sembra una strategia un po' rischiosa ma diciamo che uno nella sua azienda lo può anche fare se si sente sicuro se sa riconoscere bene le macchie eccetera eccetera non è una cosa da escludere è una strategia possibile comporta qualche rischio ma se usata bene neanche troppi diciamo un rischio quale può essere che viene questa pioggia forse infettante ma forse no io aspetto 8-10 giorni al terzo giorno mi cadono 60 mm di pioggia allora lì probabilmente il fatto di non aver trattato può essere può essere pericoloso anche perché questa pioggia di 10 mm ha comunque preparato le ospore le ha bagnate e quindi quella che viene dopo più abbondante io non ho fatto il trattamento riesco di avere una devastazione sul grappolo insomma quindi è una cosa che si può fare però insomma ci andrei con una certa cautela perfetto grazie mille grazie mille Maurizio un paio di informazioni prima di chiudere con le ultime tre domande allora riceverete tutti tendenzialmente domani nel pomeriggio un attestato di partecipazione per questo webinar e un link con il quale potrete andare a rivedere le presentazioni quindi un link per guardare le registrazioni video che abbiamo fatto oggi inoltre nei prossimi giorni potrete trovare anche direttamente su www.infowine.com tutte le registrazioni di oggi che potrete condividere anche con altre persone che magari non hanno partecipato al webinar di oggi quindi domani riceverete un link esclusivo mentre nei prossimi giorni potrete condividere questi video registrati anche con altre persone io vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo facebook che gestiamo e dove pubblicheremo comunque anche lì i prossimi webinar che teniamo assieme a Kimi Berg per chi non li avesse trovati anche lì li condividiamo in anteprima e il gruppo si chiama viticoltura visionaria quindi iscrivetevi di dentro altre cose ricorda tutti la possibilità di scaricare i documenti e riceverete prossimamente i vari link per iscrivervi ai futuri webinar adesso passiamo alle ultime tre domande intanto io qui mi stanno arrivando tantissimi complimenti quindi davvero andrea e maurizio vuol dire che avete fatto un ottimo lavoro allora leggo la domanda di antonio dice complimenti agli organizzatori dell'evento avevo una domanda per il dottor pedrazzini il coformulante presente in daramun quale profilo psicologico presenta e nello specifico è un adesivante vero e proprio oppure agisce solo nell'abbassare la tensione superficiale allora diciamo che appunto è un adesivante un bagnante quindi va ad abbassare la tensione superficiale questo l'abbiamo visto poi anche in altri formulati quali vector che sono appunto dei bagnanti che vanno ad abbassare la tensione superficiale quindi aumentano proprio la superficie di contatto del prodotto sulla vegetazione e ne aumentano proprio la sua adesività questo permette di ottimizzare il trattamento per quanto riguarda il profilo ecotossicologico diciamo che abbiamo visto prima anche la classificazione CLP ovviamente la classificazione include non solo le caratteristiche della stanza attiva ma anche di tutti i coformulanti presenti già all'interno del formulato e tra le altre cose abbiamo visto per daramun una classificazione ecotossicologica se vogliamo favorevole che prevede solo pittogramma ambientale quindi il formulato è già dentro e quindi la classificazione si riferisce ovviamente a tutte le sostanze attive e anche i coformulanti presenti in daramun perfetto grazie mille adesso facciamo così faccio una domanda a testa ancora magari inizio con la tua Andrea lasciamo chiudere invece a Maurizio ok allora 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 Silvio ci chiede per il dottor Pedrazzini maggiori informazioni sulla formulazione liquida penso sempre di daramun ma penso che sia riferito alla sospensione concentrata quindi alla qualità formulativa in questi questi termini credo di interpretare la domanda daramun è appunto una sospensione concentrata abbiamo visto anche questo aspetto durante un po' la presentazione le sospensioni concentrate sono presentano delle particelle appunto in sospensione sono prive di solventi e questo va a favorire se vogliamo anche la stessa classificazione ma favorisce appunto come abbiamo visto una copertura più uniforme della vegetazione trattata insomma abbiamo diverse qualità abbiamo un prodotto con un trascurabile residuo avagliatura sicuramente abbiamo visto assenza di polveri e questo ne ho parlato diciamo per quanto riguarda il comita flow con due slide perché è una sospensione concentrata appunto anche il comita flow ma riguarda un po' tutte le sospensioni concentrate di Diachem quindi il comita flow il Dharamon abbiamo visto i King Cop IndroRam Meteolene e altri prodotti diciamo che proprio Diachem hanno notevole esperienza nelle sospensioni concentrate a livello formulativo e lo stabilimento appunto aziendale che ha sede a Cravaggio rappresenta tutt'oggi un fiore all'occhiello dell'azienda tant'è che formuliamo produciamo prodotti per il nostro catalogo ma anche per altre molte altre importanti aziende multinazionali quindi la qualità formulativa viene riconosciuta non solo dalle nostri clienti diretti dalle aziende agricole ma anche da aziende importanti multinazionali del nostro settore agrochimico perfetto grazie mille Andrea chiudo con l'ultima domanda per Maurizio così chiudiamo precisi alle 12.30 Claudio ci chiede avevo una domanda per il professor Gili riguardo le piante sentinelle come la rosa possono essere affidabili nel preventivare un attacco di peronospora risposta è semplice no per quanto riguarda il colorante la domanda che mi è stata fatta prima ho ritrovato il mio ordine si chiama E124 questo prodotto in particolare si chiama San Martino barattola da 250 grammi quindi perfetto io lo condiviso anche con tutti i chat la rosa viene usata più che altro per l'oidio perché però anche in quel caso l'oidio della rosa è una specie diversa dall'oidio della vita e quindi non c'è da farci troppo affidamento ok perfetto grazie mille Maurizio bene allora io direi di chiudere qui la sessione di oggi se non siamo riusciti a rispondere alle vostre domande e sicuramente non siamo riusciti a farlo perché erano tantissime avete i contatti di Andrea qui in chat per scrivergli in privato e magari Andrea io giro a te le domande che non sono state risposte e in caso rispondi tu direttamente tra le persone alle quali non siamo riusciti a rispondere invece se avete bisogno di Maurizio se tu vuoi lasciare un tuo contatto sì lo lasci tu sì se me lo dici lo digito in chat se me lo dici info chiocciolagli.it perfetto adesso lo invia tutti in chat ebbene perfetto io ringrazio tutti quanti per aver partecipato ringrazio Andrea e Maurizio per il webinar interessantissimo di oggi e vi lascio fare un ultimo saluto bene ne approfitto anch'io ringrazio te Francesco e ringrazio anche Maurizio per il suo intervento e più che altro voglio ringraziare appunto tutti i partecipanti per stati veramente veramente numerosi e questo fa molto piacere sicuramente sì anch'io ringrazio molti partecipanti perché mi rendo conto che il tempo è bello e oggi in vigna c'è molto lavoro per cui si sono veramente sacrificati per fare questo seminario e spero che ne sia valsa la pena e saluto Andrea saluto Francesco e saluto tutti i partecipanti grazie io ricordo a tutti che in caso se c'è campo nel vigneto potete seguirci anche dal vigneto da cellulare della prossima volta ma qualcuno lo farà saluto a tutti sì ma qualcuno ogni tanto mi scrive che è sul trattore che ci sta seguendo e magari non sente bene però lì magari si si apprezzano e si conosce esatto diciamo che i prossimi webinar sono le 18 anche per venire incontro a chi lavora in campo esatto 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 bene grazie mille a tutti e un caro saluto e a presto grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti